Ciao e bentornati sul canale! Bentornati sul canale! Oggi recensiamo gli ovetti kinder del cartone che il papà adora! Ma anche la mamma! Sì ma anche la mamma li adorano! Ma proprio li adoriamo! Tutte vocine, tutte vocine, tutto brillantoso! Li odiano ve lo giuro! Sì decisamente, non lo leggo proprio! Allora qua si dice uno su tre, qua c'è Poppy! Chissà cosa vuoi trovare tu? Poppy! Ah comunque spieghiamo i nostri amici che il tappetino si sta rovinando perché la nostra simpatica gatta ci si fa le unghie! Quindi di giorno in giorno, noi l'abbiamo anche cambiato, ma di giorno in giorno lei ce lo trova, ce lo becca e si fa le unghie! Allora vedete? Kinder sorpresa! Vai apri tu! Strappa sui due scosse! Ma c'è qua l'apertura facilitata! Ah non l'avevo vista! L'apertura facilitata! Quanti braccialetti hai messo oggi per fare la recensione? Ma ti sembra? Questo è il mio preferito! Vabbè, andiamo avanti! Alcuni li ho fatti io! Che c'è? Ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta! Elfo ci porteresti qualcosa per mettere dentro il cioccolato? È volato un pezzo di carta! Ma quello è volato! A volte mi viene la ridurà! La ridarola! Perché io ho detto, papi continuavo a ridere una volta e mi ha detto, cosa hai bevuto il vino? E io gli ho detto no, la ridarola! La ridarola! Sì, quando ti prende è veramente fenomenale! E quando la febbre racconta storie strane! Sì è vero! Più la febbre sale, più le sue storie diventano strane e surreali! Aspetta, 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 aspetta! Et voilà! Mettiamo qua questo! Dammi la sorpresa, dammi! Vai, vai di sorpresa! Piano, non distruggere tutto! Che c'è dentro un trollo, uccidi! No! Secondo me non è un troll! Come avevo detto io, non è un troll! Una cosa terribile! Ok, via! E un leopardo! Grazie elfo! Ah, mal di gola l'elfo non riesce! Di qualcosa, saluta almeno i nostri amici! Non so! Cioè, ma se... probabilmente non arriverà domani! Sentite la tosse delle... dell'elfo domestico! Vabbè, intanto ti... lo monto io! Tu intanto apri l'altro! Ecco, bravo! E raccogli quello che è caduto senza distruggere il microfono, che la piccola sa, la prima cosa, è distrutto il microfono! Eh sì, in effetti! Eh sì, in effetti! Io intanto apri l'altro! Intanto apri l'altro! Mi servirebbero le istruzioni! Ma lo facciamo se... l'ho fatto cadere anch'io! Ah 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 ah! Allora... Allora... Aspetta! Facciamolo, fallo vedere che intanto, che forse ho capito! Guardate! Eccolo qua, ce l'ho fatta! Ah, è caduto di nuovo! Ah ah ah! Allora! Ti vedrò apparire! Ok, il clac voleva dire che è tutto a posto! Sì! Vediamo se riesco ad attaccare questo... Ti 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 ti... E' un'altra verso il basso! E' un altro verso il basso! E' un'altra verso il basso, lo sapevo verso il contrario! Lo sapevo, lo sapevo, messo là verso il contrario! No! Chi è? Pensavo che erano attaccati, invece... No... Che delus... Che delusione! POP! 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 intanto mi dia le istruzioni metti via cioccolato prima si attacca a questo eh vedi che stavo sbagliando allora prima attacchiamo questo non è un troll come non è un troll allora sarà l'ultimo per forza dice uno su tre o due su tre uno su tre ah speravo due ma questo è bellissimo ora ti faccio vedere quando ho finito di montarlo ora questo lo monto io allora prima di tutto si prendono questo si attaccano non ho capito cos'è? ah è come questo qui allora non ho capito eccolo qua allora le faccio vedere ti faccio vedere come funziona vedi? muovendo la coda si muove la bocca del del filino guarda che tac tac e questo è uno liberiamo di questo mi dia mi dia mi dia che faccio io anche questo intanto lei apre l'ultimo che sarà un troll speriamo speriamo sia pochi che dicono uno su tre però a volte si riesce anche ad andare oltre a trovarne qualcuno di più invece in questo caso c'è chi ha fortuni c'è chi ha fortuna che ne trova due spero di trovare meno uno che ti piace c'è chi ha fortunissimissimissimissimissimissimissima e ne trova tre si in passato mi è successo però non so se succede ancora questa cosa si magari però succede ho già sbagliato io non ne ho mai trovati tre tre neanche io ho trovato ho trovato oh eccolo qua e questo invece si ah questo invece guardate cosa fa andate eh tanto che tu apri guarda questo qui è un armadillo e gli armadigli hanno la caratteristica di chiudersi in se stessi quindi entra questo è bellissimo tac rientra prima la coda e poi monta e si chiude per proteggersi dai datatori troll si è il signor nuvola il signor nuvola ah ma sono da montare ai miei tempi facevano delle sorpresine già montate qui abbiamo anche la nuvola che è in un sacchettino a parte pur qua è il signor nuvola ma è fantastico il signor nuvola non mi ricordavo che ci fosse un personaggio così simpatico e carino vediamo se riusciamo a montare no lo monto io questo prego a lei qua ci sono le istruzioni intanto io faccio vedere quello che abbiamo trovato la cartina nooo dell'armadillo col montaggio speravo dopo vi devo dire una cosa se fossero anche gli altri dopo vi devo dire una cosa e dopo dici qui abbiamo è una cosa pazzesca ve lo giuro qui l'immagine molto bella vi giuro che è una cosa pazzesca penso che siano abbastanza nuovi gli speciali dei troll perché fino a poco di tempo fa c'erano fuori le enchantimals che abbiamo fatto vedere e pet 2 ovviamente quando l'ho visti sono stato molto contento per Sara li ho presi per Sara per vedere se trova qualcosa che piaceva a Sara giusto? si invece a me però devo dire che il signor Nuvola è uno di quelli che non mi dispiace come è? così credo no aspetta così con i puntini in giù no è che se fanno le istruzioni più piccole io riesco anche a diventare cieco e i puntini in giù intanto faccio vedere tutti gli altri personaggi io volevo papi si forse poppy è il più bello per te dopo Nuvola io preferirei Nuvola guarda c'è anche un libretto guarda che cosa è arrivato guarda che cosa è arrivato mi volevano fare paura a me con questo piccolo e tenero orsocchiottino è un ragno facciamo una delle puntate dedicate ai nostri peluche facciamo parte 1 parte 2 parte 3 parte 4 guardate c'è un libretto sì Roland The Magic Killer app ma perché si può andare se non ho capito tocca tocca la nuvola è pelosetta è pelosetta ecco perché era in una custodia parte vediamo la nuvola com'è fatta e allora immagino che lui visto che nel cartone è glitterato sì si ha glitterato spostati che facciamo vedere bene per me è così guardate che bello la base con la pioggia e lui pelosetta non fatti veramente bene a parte il fatto che sono brutti odiosi però non fatti veramente bene però signor nuvola ti piace sì signor nuvola mi piace quindi com'è che si tira così hai visto così lo vedi solo tu ok comunque e invece questo abbiamo detto che muovendo la coda muove la bocca allora ragazzi e amici miei ci vediamo sicuramente un prossimo video iscrivetevi al canale mettete un like condividete commentate sotto qualsiasi cosa avete da scrivere anche come andate a scuola noi non abbiamo moltissimo tempo per rispondere ma quando lo facciamo lo facciamo molto volentieri che classe fate qual è il vostro video preferito che avete visto in passato eccetera 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 comunque credo di poter annunciare in questo video che il 12 di dicembre quindi manca veramente poco quindi questo lo pubblico domani tra due giorni esce la nuova campagna S lunga di Natale un sacco di premi automobili telefoni eccetera eccetera ma a noi cosa interessa il gioco in scatola soprattutto o meglio anche gli altri in effetti però il gioco in scatola l'anno scorso era il monopoli S lunga quindi speciale S lunga quest'anno uno dei regali sarà il Trivial Pursuit speciale S lunga e siamo curiosi di vedere com'è e ve lo faremo vedere appena riusciremo a vincerlo quindi speriamo prima di riuscire a vincerlo se no chiediamo a qualche amico parente o vicino che magari lo trova prima di noi ce lo presta facciamo la recensione poi lo ridiamo va bene tu intanto gioca con nuvola no li ho fatti vedere tutti ah bravo e allora ci vediamo al prossimo video giusto Sara? ciao ciao a tutti ciao